Lei cosa pensa di X Factor e dei talent? No, io chiuderei questa sala cinesca di X Factor e gli manderei a fare un pochino di gavetta, come si usa fare, perché io sono venuto dalla gavetta. Di un cantante come Fedez, lei cosa pensa? Io appena vedo Fedez in televisione cambio subito il programma, mi perdoni. Partiamo invece da Lucio Battisti. Senta, io ho letto che aveva anche dei rapporti difficili con molti suoi colleghi, non sopportava Baglioni. Quando io stavo per cantare, lui per offenderti non diceva guarda che canti male, guarda che stai stonando. Lui mi guardava e faceva, arrivavola, perché mi sembri Claudio Baglioni così, per favore. Cosa diceva Di Mina, che è stata interpreta di tante canzoni, però a me ne ho detto che non era un grandissimo... Ma sinceramente, tranne alcune canzoni che le ha azzeccate, in alcune canzoni lui diceva un po' trombone. Io dicevo... Di Mina? Sì, perché diceva giustamente che la voce era tanta, ma l'emozione dentro non c'era. Sì, perché diceva giustamente che la voce era un po' trombone.